Quella che avete appena sentito è la sirena che annuncia l'apertura della diga. A mezzogiorno in punto i tecnici di Irenacqua hanno chiuso momentaneamente le valvole di erogazione verso l'acquedotto di Genova e contemporaneamente hanno aperto quelle che alimentano la vasca che riversa l'acqua nel Trebbia fino ad arrivare a 2067 litri al secondo che è il quantitativo pattuito con il consorzio di bonifica per i primi 14 giorni di erogazione. Questo è il momento esatto in cui l'acqua ha iniziato a scendere verso il territorio piacentino. Siamo alla diga della Brugneto nella comune di Torriglia in provincia di Genova. Poco prima di mezzogiorno la sirena ha annunciato l'apertura della diga con il rilascio straordinario di acqua verso il territorio piacentino. 4 milioni di metri cubi che arriveranno nell'arco di 28 giorni, un momento davvero molto atteso per il mondo dell'agricoltura piacentina che sta vivendo un periodo di emergenza siccita come non si vedeva da molto tempo. A spiegarci le procedure di apertura della diga e come proseguirà questo rilascio è Roberto Terret, tecnico della consorzio di bonifica di Piacenza. I primi 14 giorni sono 2067 litri, per gli ulteriori 14 giorni, cioè dal 21 luglio al 4 agosto, in pratica la portata diminuirà a 1240 litri al secondo, salvo eventuali modifiche dell'erogazione che potranno essere richieste dal consorzio nel momento in cui dovesse, speriamo, piovere. Questo rilascio consentirà agli agricoltori di poter svolgere il loro lavoro di salvare la campagna? Speriamo di sì, perché adesso di questi 2067 litri che partono dal Brugnetto, lunedì, domenica e lunedì vedremo quanti effettivamente riusciremo a derivarne, visto che adesso comunque con la deroga al DMV siamo già sulla buona strada. Nonostante tutto riusciremo a compensare un pochettino la grave siccità. Per vedere i primi effetti del rilascio dell'acqua del Brugnetto partito circa un'ora fa, bisogna guardare quel laghetto che si trova in mezzo agli alberi. Prima l'acqua non c'era e ora ha iniziato ad arrivare, ma ricordiamo che per raggiungere il territorio piacentino, in particolare quello di Rivergaro, dove poi inizieranno le derivazioni, occorre aspettare fino a domenica. Secondo i tecnici l'acqua arriverà intorno a mezzogiorno. La diga del Brugnetto è stata costruita negli anni 60 e si trova interamente nel territorio genovese, ma in base agli accordi politici si era stabilito che avrebbe rilasciato acqua anche per il territorio piacentino. In precedenza il quantitativo era di 2 milioni e mezzo di metri cubi l'anno, il quantitativo è stato aumentato a 4 milioni di metri cubi negli ultimi 4 anni. Nel 2014 non c'è stato bisogno perché è stata un'estate molto piovosa, negli ultimi anni invece i metri cubi sono stati utilizzati. Quest'anno l'auspicio è che siano sufficienti, ma vista la grave emergenza siccità che sta vivendo il territorio piacentino, si teme appunto che possano non bastare. Il termine delle operazioni è sancito dalla firma sul documento che attesta l'avvenuta erogazione. Le colture piacentine a breve potranno iniziare a dissetarsi.